Come diceva il grande Totò, la morte, na livella, rende tutti uguali. Ci sarebbe da aggiungere anche che tutti i morti sono uguali e tutti i martiri sono da celebrare. Ci sono voluti decenni, ma alla fine anche le vittime delle foibe hanno trovato il loro spazio, la loro memoria e il loro ricordo. Già, la giornata del ricordo serve proprio a questo, a ricordare che non c'è colore politico per la morte e lo sterminio, anche se qualcuno nel dopoguerra ha provato a cancellare il ricordo di chi, da italiano, ha perso la vita per la sua terra. Questo è un momento importante non solo per ricordare ma onorare tutte le vittime che hanno perso la vita perché si sono opposti all'espansionismo di Tito e che sono stati costretti a scappare e ad abbandonare le terre, la casa, il lavoro, gli affetti ed i miei amici per poter avere la possibilità di vivere. Quindi è un giorno importante, un giorno in cui riflettere e continuare ad essere vicina alle famiglie di queste vittime. Io mi auguro che veramente dopo tanti anni si sia già arrivati a questo. Non ci possono essere i morti di appartenenza di una parte o dell'appartenenza dell'altra. Io credo che un paese veramente civile quando ricorda tutta la sua storia e quando la ricorda senza steccati senza appartenenza e rende omaggio ad ogni pagina di storia e soprattutto anche a coloro che in quel momento erano i protagonisti, a volte anche protagonisti indifesi e vittime di ciò che attorno accadeva. Quindi la giornata del ricordo mi auguro che non solo sia servita a ricordare una pagina di storia per troppo tempo dimenticata ma anche alla cosiddetta della pacificazione alla quale veramente dobbiamo arrivare.